Il nuovo piano per l'Abruzzo indicato dal generale Figliuolo aggiornato fino al 20 maggio prevede la somministrazione di 90.000 vaccini nei prossimi 9 giorni, dunque una media di 10.000 vaccini giornalieri per poi raggiungere il target di 15.000 ma anche 20.000 dosi nel mese di giugno, ovviamente vaccini permettendo. Obiettivo quello dei 90.000 vaccini facilmente raggiungibile come confermato dal coordinatore regionale per l'attività di vaccinazione Maurizio Brucchi. È un obiettivo che noi abbiamo dimostrato di poter raggiungere già nei giorni passati perché oramai da diverse settimane siamo sul target o sopra il target con oltre 10.000 vaccini al giorno, questo è anche il dato che ci ha permesso di stare due punti sopra la media nazionale a livello regionale e quindi anche a livello locale. C'è un grande lavoro dietro, c'è un grande lavoro dell'assessore Verì, c'è un grande lavoro di tutte le ASL, sentiamo anche vicino la figura del commissario Figliuolo che è stato qui qualche giorno fa insieme anche al generale Battistini che ci sono vicini e ci danno anche manforte e questo per noi è molto importante avere gli stimoli giusti, però 90.000 vaccini li riusciremo a fare molto tranquillamente perché siamo già oggi su queste cifre. Ci sono studi che insomma, come dire, danno l'abruzzo fra le regioni che per prima raggiungeranno l'immunità di greggia, questo è un'altra cosa che ci fa piacere. Se riusciamo però a mantenere questo target, diciamo questo piglio, chiamiamolo così, che abbiamo preso, quindi è importante mantenere questi numeri, continuare a vaccinare sopra i 10.000, rispettare il target se aumenterà e devo dire che probabilmente riusciremo ad anticipare anche i tempi. Oggi 12 maggio anche a Teramo, come in tutto il mondo, si celebra la giornata internazionale degli infermieri. L'occasione è stata anche quella di presentare cinque nuovi progetti innovativi da parte della ASL. Sono progetti di varia natura, uno sul benessere degli operatori, un altro sul sistema vascolare perché loro inizieranno, come possiamo dire, a prendere sicura del paziente cronico sul territorio, di come vengono iniettate le attività vascolari sui pazienti e sono altri tre progetti, uno sull'integrazione ospedale-territorio, tutti progetti finalizzati a rendere importante il ruolo della figura, come dicevo prima, perché per noi è fondamentale nel prossimo futuro che l'infermiera non solo opera in ospedale ma anche sul territorio, dove diventerà sempre più presente l'assistenza sanitaria, perché non è che tutti devono andare in ospedale, l'ospedale deve essere l'ultima razio, noi dobbiamo assistere il paziente sul territorio e in questo ambito la figura dell'infermiera ne è il perno.